Sindaco ufficiale, nessun danno per l'ambiente dopo l'incendio del Consorzio AM di Pineto. Dati negativi? Sì, i dati sono negativi, fortunatamente. Noi abbiamo insistito affinché vi fossero tutte le verifiche del caso dal punto di vista dell'analisi delle acque, dell'aria. E ringrazio per la collaborazione da subito i Vigili del Fuoco, seguire l'ARTA, l'ASL con i vari servizi e tutti gli uffici che hanno da subito partecipato ad una conferenza di servizi per pianificare. Ovviamente quando accadono eventi di questo genere bisogna essere davvero cauti. Ovviamente il primo cittadino ha questa responsabilità quindi di occuparsi e preoccuparsi immediatamente per quelli che possono essere i risvolti per la salute. E fortunatamente gli esiti delle analisi, quindi fatta dall'ARTA, fatta dall'Istituto Zooprofilattico, sono risultati negativi. Quindi adesso siamo più tranquilli. Sul caso è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle che chiede di fare chiarezza su quanto è accaduto al Consorzio perché è una delle voci maggiormente importanti per il bilancio delle casse comunali di Pineto. Ma fare chiarezza su quanto è accaduto al Capannone non spetta né a noi né al Movimento 5 Stelle, spetta alla magistratura che farà il proprio corso nel capire quali sono state le cause dell'incendio. Detto questo ho voluto in occasione del Consiglio Comunale informare tutto il Consiglio Comunale di quanto è accaduto. Lo stesso Movimento 5 Stelle si è unito al coro del Consiglio intanto nell'esprimere solidarietà all'azienda per quanto è accaduto, ai lavoratori che lavorano all'interno dell'azienda con la speranza di far luce al più presto su quanto è accaduto.